ciao ragazze ciao a tutte e a tutti allora nuovo video vlog barra che criccio se vedete le mie spalle letto un disordine è perché devo fare il letto quindi vediamo un po cosa mi viene fuori premessa sono a metà vestita e metà in pigiama perché con freddo voglia quindi abbiate pazienza ma in questo momento preferisco fare il video adesso poi non ci penso più quindi niente parte le cianci e cianci alle bande perché non preso guida a fare un video che criccio e non solo mettiamo a posto ok sto per te la via usa non so come è vero da vedere ma non ho messo così come deve essere messo aspettate un po che dunque il resto è niente ragazzi dunque che facciamo metto un po' clicchierare con voi da vicino con la telecamera che ne dite sì direi di sì ecco qua eccomi ci sono dunque oggi sono uscita un po' di casa sono entrata che era già mezzo giorno perché alle 11 era ancora fuori casa a fare parecchie passeggiate a muovervi un po' di più e oggi è un po' di più e oggi è un po' di più e ho cercato di fare passeggiate e nel frattempo poi si è fatta tardi e sono dovuta andare se utilizzano la casa passo un caffè ma il caffè non ho fatto nulla non me ne ho non me ne ho tanto svegliato però vabbè più o meno si come pantaloni ho questo qui non so se si vedete questo qua questo tutto aspetta veloci un po' ok così si ho questo qui questo non so se si possa vedere questo si questo qui che è praticamente è le ho portato e niente quindi che dirvi questa è la meglio che avevo stamattina e ho da stamattina addosso come pantalone aspettate un secondo dentro l'altra devo mettere lavare perché troppo come fare una doccia questo pantalone qui che è preso in piazza da 5 euro vedete questo qua bellissimo pantaloni adesso la metto adesso la metto e poi lavo la lavatrice come pantoffole una specie le solite quelle della dottor sciolle e basta ciao questi capelli qua sono tutti che non capisco perché vabbè e niente costerà tutto quindi spero che questo video vi sia piaciuto per l'appunto e noi ci si vede a un prossimo video non lo dico all'inizio ma lo dico alla fine alla fine si appunto mettete un bel like di supporto un commento e attivate la campanella qualora voi deciderete deciderete di iscrivervi non lo so comunque qualora voi decidete iscrivervi non so se si dice così però vabbè ci siamo capiti se vi iscrivete attivate la campanellina non personalizzata né nessuna ma tutte le tutte le notifiche per ripetere per un po' dei possibili aggiornamenti altro si seguitemi su Instagram come youtuber trattino basso 8 youtuber melania trattino basso 8 scusatemi e poi come tiktok melania beauty papstale no melania papstale beauty su tiktok su Instagram ho già detto facebook tanto trovate i link di riferimento a man mano che pubblico questo video e noi ci si vede appunto al prossimo video ciao a presto un bacio un bacio sape capito e love